Lavoro, concentrazione e determinazione. È questo lo spirito con cui il tecnico del Brindisi Ciro Danucci ha voluto affrontare questa settimana in vista della sfida di Altamura, la seconda trasferta consecutiva per la formazione brindisina, che vuole dimenticare immediatamente la prima sconfitta stagionale arrivata domenica scorsa a Nocera. Il tecnico Adriatico ritrova a disposizione Alex Sirri dopo le tre giornate di squalifica, che riprenderà il posto da titolare al centro della difesa a fianco a Baldan in attacco. Invece si rinnova il ballottaggio tra Santoro e Di Piazza. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità nell'undici titolare che sarà in campo anche ad Altamura e che cercherà di ritrovare la via del successo. Quando si perde c'è da abbassare la testa, pedalare e cercare di fare sempre meglio. Io conosco soltanto queste ricette, c'è da lavorare, lavorare e i risultati pian piano arriveranno. Io mi aspetto che il Brindisi faccia il Brindisi, che abbia la sua identità in campo, che sappia gestire diversi momenti della partita, cosa che magari a Nocera non siamo stati bravi a gestire determinati momenti. Mi aspetto comunque voglia di rivalza da parte dei miei ragazzi, perché comunque, come dicevo prima, il risultato è sì importante, ma troppo bugiardo secondo me per la prestazione che poi abbiamo fatto a Nocera. Siamo consapevoli del fatto che andiamo ad affrontare una partita difficile contro l'Altamura, che è una squadra forte, costruita con ottimi elementi, quindi ci siamo preparati bene. Poi è normale che ogni partita ha la sua storia, Nocera è passata, come sono passate tutte le altre, e ci concentriamo su Altamura, dove cerchiamo di fare del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo. Grazie. 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 Grazie a tutti